Pierpaolo Zavattieri, il nuovo sindaco di Rogudi, buonasera. Buonasera a voi, sì, diciamo è un'esperienza nuova per me, ho fatto amministratore della provincia per cinque anni, l'ho fatto con molto impegno, al di là dei risultati raggiunti, sono cose in cui credo, diciamo, la politica è per me un impegno, un impegno sociale, tant'è che l'altro giorno la giornalista mi ha chiesto un hobby, non gli ho saputo rispondere. Poi alla fine ho detto impegno sociale, impegno è una parola grossa, può essere intesa in chiave positiva e spero che chi mi sta intorno la interpreti così, se è così vuol dire che bene o male mi riconoscono almeno la buona fede anche quando sbaglio, perché tutti siamo persone e quindi tutti sbagliamo. Questo nuovo impegno, diciamo, nel rilancio dell'associazione dei sindaci dell'area può essere utile perché noi siamo stati 4-5 anni con 3-4 sindaci su 16, adesso neanche il comune di Reggio che fa il sedicesimo comune dell'area grecanica, anche se sappiamo che topograficamente e geograficamente non rientra a pieno titolo in questo numero di comuni, però noi abbiamo due comuni in cui mi sono speso alle ultime elezioni, che sono Roguti e Bova, che sono veramente la parte centrale dell'area grecanica e i nuovi rappresentanti, tra cui ci sono pure io, mi auguro possano dare un contributo al lavoro che è stato già intrapreso da qualche semestre, diciamo da quasi un anno a questa parte, per il rilancio di questo territorio. Io mi sono speso precedentemente nel ruolo di consigliere provinciale anche sull'aspetto legato alla suddivisione per aree della città metropolitana che si sta per realizzare. Sono 4 le principali zone omogenee, tra le quali grazie anche a un lavoro importante, anche di un gruppo a cui ho fatto parte io, abbiamo ottenuto il riconoscimento unanime da parte di tutti i territori della città metropolitana di essere appunto una zona omogenea che può riconoscersi anche sotto una veste istituzionale. Ciò ci potrà dare la forza a livello di programmazione, certamente, ma anche a livello di obiettivi da raggiungere per i prossimi sei anni che sono ogni volta, diciamo, è l'ultimo, stavolta potrebbe essere l'ultimo sessegno della programmazione comunitaria. Certamente siamo nell'avvio del sessegno 2014-2020 e gli obiettivi, se programmati su un territorio omogeneo, possono dare una ricaduta certamente molto più alta. Io su questo incentrerò gran parte del mio mandato, gran parte, dico gran parte non tutto perché una parte importantissima sarà per Rogudi quella dei servizi, dei servizi primari, che non voglio dire manchino o sono mancati in questi anni a Rogudi, ma evidentemente per carenza di fondi o di organizzazioni non sono stati curati appieno. Parlo della pulizia del paese, parlo delle erbacce in giro, parlo della viabilità e delle strade. Su questo ci impegneremo. Io non so se riuscirò a dare risultati. Sbaglia chi lancia slogan e dice Io so fare meglio di te. Io garantisco il mio impegno e garantisco la mia presenza al di là dello spot elettorale che è andato avanti in questa campagna. Ecco appunto, le volevo chiedere appunto. Lo straniero. Ecco, non passa lo straniero, comunque lo straniero. Questa volta è passato lo straniero. Io poi sono uno straniero, così, eufamisticamente parlando, sono nipote di un rogudese, sono un rogudese di ritorno. Un rogudese di ritorno che appunto si impegnerà a diventare un nuovo rogudese. Certamente lo diventerò per la parte che riguarda l'amministrazione. Dopodiché, se vogliamo tirare una novità per i telespettatori che mi hanno chiamato straniero solo perché dormo a Bova Marina, la notte voglio aggiungere, ormai che ho vinto, lo posso dire, che mia madre è pugliese, quindi addirittura sono proprio fuori dal mondo, diciamo. Quindi ringrazio tutti gli elettori, colgo la vostra occasione importante, siete molto seguiti. Ringrazio tutti gli elettori, tutte le persone che mi sono state vicine e alle quali cercherò di stare vicino io. E ringrazio voi per il servizio che fate puntuale sul territorio e per il quale, penso un po' tutti, dobbiamo dirvi grazie. Parlo in generale degli operatori, non solo di voi, insomma la stampa in generale, che diffondete il nostro messaggio e le informazioni utili anche al cittadino. Grazie. Senta Sindaco, noi abbiamo colto l'occasione della serata di questa sera per fargli gli auguri in diretta su Melito TV, canale 817 naturalmente. Adesso lei ci ha delucidato un po' il suo percorso, il suo lavoro, quello che come sindaco di Rocudi. Due parole per questa bellissima serata con i ragazzi della scuola primaria che tra balli, canti, suoni ci hanno illustrato l'Europa. Sì, è bello il messaggio appunto perché accoglierlo sono prima di tutto loro, perché lo spettacolo a quest'età non deve servire per fare degli incassi, il biglietto non era a pagamento. Serve per la gratificazione dei ragazzi e il lavoro che hanno fatto durante l'anno. serve a contribuire, a far fissare alcuni concetti che sono solo mnemonici se non si mettono in pratica, per cui loro studiano la geografia, studiano l'ex educazione civica. Adesso cambia il nome, si evolve, ma stiamo parlando sempre di educazione civica. E però a quest'età, parliamo di scuola primaria, non riescono a capirne il senso. Invece se l'integrazione razziale, l'integrazione sociale e anche la geografia applicata attraverso una recita, attraverso un'esibizione, quando appunto chi li prepara gli deve spiegare alcune cose, loro le vivono in prima persona, le vivono in pratica e quindi io così da insegnante, anche se non ero un insegnante eccellente, lo voglio dire per almeno avere un'apparenza di modestia, ovviamente ho vissuto queste cose e so che possono rafforzare questi concetti. Più in generale l'idea del Preside che ha voluto unire i quattro plessi... Quello che le stavo chiedendo, le ruba tutte le domande. ...è un'idea, vabbè, perché comunque la premessa l'ha fatta comprensibile e quindi io, diciamo, alla normalità della comprensione ci arrivo, quindi l'ho colta, diciamo, grazie per il suo indiretto complimento. No, le quattro scuole, l'unica scuola con i quattro plessi riunita dà appunto il senso di un'area unita e quello è il senso che ho voluto dare io con la mia doppia candidatura. Candidarmi a Bova, sono stato pure eletto, questo ve lo do come informazione, magari non l'avate seguito, e candidarmi a Rocuti insieme significava non per me che da consigliere provinciale mi sento a un livello più alto e non mi basta una candidatura. Era per dire che questi comuni, tra l'altro sotto la mannaia di proposte di legge che vanno verso la riduzione dei comuni sotto i 5.000 abitanti, devono quantomeno ragionare insieme per trovarsi pronti qualora prossime eventuali razionalizzazioni anche gestite così frettolosamente, ci trovino pronti, organizzati, con i servizi al territorio già sincronizzati, già in sinergia, in modo tale che non subiamo o non subiremo eventualmente nessuna ripercussione. Questa è una scuola unica anche se ha dei plessi dislocati per la sua area, articolata, ben venga però devono avere un momento di confronto e d'incontro almeno un paio di volte l'anno affinché si possano tenere anche così come ministerialmente indicato delle uniformità di programma perché se no ci possono essere realtà ghetto, realtà emarginate nelle scuole e realtà invece più coinvolte. Chiaramente la sede centrale ha il campetto, in erbetta, ha altre strutture, però se noi queste barriere le eliminiamo con il coinvolgimento e con la sinergia fra plessi questa differenza non si avvertirà molto. Questo è un concetto assoluto che poi da questa scuola e da questo plesso si può applicare nella realtà territoriale, così come Roguti fino a oggi è stato leggermente, non voglio dire totalmente ghettizzato perché isolato e relegato a comune quasi dormitorio, se noi oggi ragioniamo su questo principio, quello dell'integrazione e della sinergia, probabilmente ognuno non avvertirà questa difficoltà e si potrà avere, io mi auguro, un'uniformità innalzata, quindi un'uniformità al rialzo e non al ribasso. Sindaco, noi la ringraziamo per la sua gentilezza, le auguriamo buon lavoro e complimenti ancora per la sua vittoria schiacciante. Grazie a voi e ci rivedremo lungo il nostro territorio che è il mio come amministratore ma è il vostro come impegno per la comunicazione. Grazie, grazie.